che raga io ho paura delle condizioni di questi slime nel senso a me sembrano un po' fake un po' si oddio ma è liquidissima mamma mia ma che roba è YOLANDA SWEET hello everyone riaccomi tornata con un nuovo video come state spero tutto bene come avete passato questa giornata spero bene allora ragazzi prima di iniziare questo video ovviamente mettete un bellissimo pollice in su arriviamo ad 8000 like perché oggi andiamo ad aprire una box di un anno fa in che senso io l'aspettavo tipo 10 mesi fa questa box che è un kit che ho comprato da Etsy a 2 euro che arriva dall'America in questa quarantena poi ovviamente il pacco non mi è più arrivato e mi è arrivato oggi cioè oggi no ieri questo pacco lo sto aspettando da almeno 8-9 mesi questo l'ho pagato 2 euro ovviamente iscrivetevi al canale attivate la campanella per ricevere sempre tutte 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 le mie notifiche perché pubblico video sempre tutti i giorni alle ore 14 e 30 facciamo un bellissimo giochino facciamo il gioco indovina lo youtuber ve lo metto qua probabilmente sarà una coppia probabilmente sarà un youtuber singolo probabilmente sarà un tiktoker questo qua ovviamente è un pacco con un kit doveva essere un kit della Elmers con degli slime all'interno l'ho ricevuto oggi e non ricordavo neanche cosa ci fosse dentro questo kit quindi l'ho aperto perché c'era lo scotch l'ho aperto ma è ancora tutto imbustato ho visto il contenuto un po' sbircia ho detto ah ma allora è quello quindi adesso vediamo un pochettino dentro cosa ci troviamo allora togliamo la busta wow è stracolmo di roba ok qua abbiamo due slime che raga io ho paura delle condizioni di questi slime e quindi vediamo un po' abbiamo un addensatella Elmers il che promette bene abbiamo un altro attivatore slime activator un mini slime dentro palline questi sprinkles arancioni poi cos'è sto coso baking soda e perché mi ha messo baking soda forse va con questo un misurino un sacco di ragazzi scaravolto scaravolto scaravoltiamo wow wow oh mamma mia quanta roba allora non me l'aspettavo allora abbiamo una colla della Elmers trasparente che a parte non lo so se è rotto no però mi sa che perde non lo so è un po' strana perché sembra tipo usurata cioè sembra tipo usata non vorrei che vabbè questa anche vinilica che sembra usata non sembra usata anche a voi perché sembra tipo macchiata dietro cioè le cose non mi sembrano nuove e una colla trasparente che obiettivamente è un po' no se è trasparente ciao è una colla glitter che obiettivamente mi sembra un po' strana cioè sotto è più densa e sopra è più liquida non sembrerà mai dalla videocamera ma vi giuro che è così ho un po' un'incertezza nel senso a me sembrano un po' fake nel senso che mi sa che lei le ha riempite queste colle proviamole insieme e vediamo cosa combiniamo allora eccomi qua forse da qui vedete meglio le condizioni delle colle vedete allora qua è più densa e qua è più liquida guardate perché la colla della Helmers non è così liquida e poi il colore è diverso vedete com'è diverso il colore da giallo a giallo allora la prima cosa che voglio vedere insieme a voi ma che è sta roba nera la prima cosa che voglio vedere insieme a voi sono gli slime ho un po' paura ecco perché potrebbero essere un po' appiccicosi ok e obiettivamente diciamo che così così mi aspettavo di peggio dopo 8 mesi vi devo dire la verità allora è una specie di butter slime sa un po' di fragola vediamo ok anche questo è molto appiccicoso però non è male anche questo aiuto è praticamente una specie di butter clay fatemi sapere una cosa ragazzi sotto adesso in un commento oltre a indovinarli ai youtuber fatemi sapere se nel video di sabato vorreste un video dove unisco 5000 big bubble per fare una big bubble gigante oppure vorreste un video dove unisco 100 rossetti per fare uno slime fatemelo sapere che video vorreste sabato a caso io non lo sapevo che slime mi inviasse c'era scritto kit elmers più slime e gadget non sono male voi cosa ne dite nel complesso carini anche molto profumati quindi ci sta non mi non mi esprimo con i voti magari li date voi ora passiamo alla parte più importante di tutte ossia le colle come mi sembrano a me sembrano usate e questa qua sembra tipo rattoppata un po' si oddio ma è liquidissima oh mamma mia ma che roba è si raga comunque è tipo liquidissima però per essere colla comunque è colla però credo che non sia colla elmers comunque qua ci sono dei glitter li andiamo ad utilizzare oh non ho aperto questo slime lo apriamo dopo dai lo apriamo dopo me lo devo ricordare se no me lo dimentico andiamoci a mettere questi glitter gialli visto che siamo in tema e questi qua adesso ovviamente sono glitter di natale no glitter tipo sprinkles questi qua fatti così ah cane scusate di natale ovviamente si è ordinato a novembre mi deve arrivare per natale se ciaone comunque mescoliamo e usiamo l'attivatore usiamo quello della elmers ma si ok è molto denso come attivatore anche se voi già lo sapete visto che lo abbiamo utilizzato comunque parecchie volte e devo dire che comunque si addensa anche se è molto jiggly vabbè l'importante è che le cose funzionano e che gli slime vengono più che altro sono un po' interdetta per quanto riguarda le colle è molto viscido quindi ragazzi facciamo una cosa prendiamo il nostro misurino che ci è uscito all'interno mettiamo sto sto addensante qui dentro e ci mettiamo il bicarbonato vediamo mettiamoci il bicarbonato lo mescoliamo un pochettino perché frizza ragazzi sentite frizza ma perché oddio un po' paura vabbè mettiamolo dentro questo addensante ma che cavoletto ok ho un po' di timore per questo addensante ma vabbè frizzicava cioè non mi è mai successo mescoliamo il todos e formiamo questo slime riuscito e devo dire che non è venuto male ci possiamo mettere sopra ah visto che siamo in tema ma non ho capito se questo è arancione o giallo però vabbè siccome a me sembra più arancione che giallo a voi cosa sembra arancione o giallo questo è giallo questo sembra tipo tra l'arancione e il giallo vabbè comunque ci mettiamo due di questi cosi arancioni sopra e ci possiamo mettere due glitterini arancioni di questi e devo dire che il risultato not bad non è male mettiamo la colla vinilica e anche questa sembra un po' sporchina guardate è come se l'avesse riempita ma la colla elmes come puzza ma la colla elmes è proprio così lo sapete che non mi ricordo comunque mescoliamo va bene io ci vorrei mettere la clay in questo slime almeno lo rendiamo un po' più butter mettiamo questo qua che è l'addensante ok sta venendo dopo che lo maneggiamo io non ci ho messo tutto questo attivatore infatti mi sembrava un po' strano dopo che maneggiamo lo slime sta venendo fuori qualcosa di carino prendiamo la clay visto che ce l'abbiamo e la andiamo a mettere all'interno dello slime la clay non è male credevo si seccasse invece fortunatamente non si è seccata ok mescoliamo e vediamo cosa esce fuori voglio utilizzare queste palline ok le mescoliamo e questo è lo slime che è uscito colorante mi ha colorato mezzo mondo ragazzi mezzo mondo della mia scrivania cioè guardate non si leva più che altro ma che colorante è mamma mia allora la colla questa qua sembra colla elmers davvero credo spero guardate qua vi voglio far vedere una cosa guardate c'è tipo del bianco sopra uno è messa troppa come se il tappo non fosse il suo ma come è possibile la cosa del genere vabbè sono un po' sciocchietta ci possiamo mettere dentro le fishbowl e direi di aggiungerle adesso che lo slime è ancora un po' appiccicaticcio così si incorporano meglio è molto carino nel senso è sempre un po' gigloso la colla sembra molto molto strana non l'ho usata tutta ovviamente ce l'ho ancora qui anche per la colla vinilica però non è male nel complesso la cosa che più mi ha fatto rimanere interdetta è la colla colorata che sembra proprio usata guardate facciamo una cosa apriamo l'ultimo slime penso sia uno slime tipo cinesino probabilmente perché la faccia è quella non è male dai è carino come piccolo dai non è male è carino è molto gigloso è gommoso ma non è per niente male uniamoli insieme è caduto pure l'ovetto beh dai dai non è male vabbè sono quei classici slime cinesini va bene grazie mille a tutti per aver visto questo video spero che vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia fatemi sapere giù in un commento cosa ne pensate io vi mando un bacione un abbraccio e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14.30 con un nuovo video bye bye